Lunedì 12 dicembre, ci siamo ancora con il 12 per il nostro calendario, ovvero Christmas, il 12 di dicembre, eccolo qua Beh? Non c'è? Non c'è! Non c'è! No, non è vero, scherzavo. Eccola qua! Ed è, ed è un... La Passion Tang, Fashion Fruit Sour, Venice Reserve, 7 gradi, vabbè per iniziare la settimana direi che è perfetta, no? Ciao!